ciao a tutti e buon mercoledì a tutti la la serie era un grattino al giorno leva il medico ritorno ma noi vogliamo esagerare quindi ne grattiamo due ieri quattro oggi due domani quattordici dopodomani 27 ma chi più ne ha più ne metta la sfida è questa dobbiamo trovare i simboli quindi andiamo subito a grattare questi due miliardari da 5 euro serie 47 numero 11 numero 13 per chi ama i numeri grattiamo prima il numero 11 vediamo i numeri vincenti 24 12 21 29 e 20 vediamo un po primo numero 19 e abbiamo il 20 40 tutti con la ventina e solo uno della decina 46 non c'è 37 15 mi ricordo che possiamo trovare anche i simboli 27 non c'è 16 non c'è 18 non c'è attenzione 31 non c'è 41 non c'è 25 c'è il 24 11 non c'è 17 non c'è 43 manco e 14 manca il primo è perdente passiamo al secondo numero 13 andiamo un po numeri vincenti 14 24 44 19 e 32 ci stava il 34 però speriamo sempre sempre nei simboli 25 cominciamo 15 15 12 12 c'è la prima 28 non c'è 45 non c'è 44 poi c'è 16 e la prima 29 e 14 sono un attimo 30 non c'è 37 non c'è il 39 purtroppo non c'è 26 non c'è 29 non c'è 38 manco 40 non c'è 41 purtroppo questi due grattini sono perdenti e ancora un buon mercoledì a tutti e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao